Tu vedi quanti giornalisti, quante persone? Grandissimo Massimo! Hai visto? Hai visto la gara in progressione? Che risultati che ha dato? Dai! Lo sai che questa è anche grazie a te, vero? Sì, gliel'abbiamo detto tutti stamattina quando ci siamo emozionati al traguardo, Massimo. E sono andati anche da tuo padre. Ehi, questi giornalisti qua sono andati da tuo padre? Sono andati. Adesso le cose buone. Dai, è da quando è finita la gara che io sto con loro? Uno se ne va, l'altro viene. Eh, meglio se le conferenze non si stanno, sai come è la vita della gara. Senti, dimmi, la premiazione a che ora è? Noi, domani devo andare a Tocci. Ah, a Tocci sarà la premiazione? Noi, domani abbiamo fatto a Tocci. Come ti senti, Massimo? Come ti senti? Ehi, quando... Senti, ma quando vieni per l'Antonio? A metà settembre? E' avviso da metà settembre. Grande campione, grande Massimo! Bravo Massimo! Ciao, Massimo!